Il neosindaco di Giulianova, Ivan Costantini, ha incontrato i vertici della Ruzzoreti, un incontro proficuo nel corso del quale il primo cittadino ha concordato con l'azienda un riborso a favore del comune di Giulianova, per mutui pregressi di 757 mila euro. Inoltre nel corso dell'incontro è stata annunciata da parte della Ruzzoreti la realizzazione di una linea di potenziamento della rete idrica, lavori che permetteranno a Giulianova e agli altri paesi limitrofi di non rimanere mai più senza acqua, soprattutto durante il periodo estivo. Siamo molto soddisfatti, siamo riusciti a farci rimborsare per dei mutui pregressi una cifra molto importante, oltre 750 mila euro. In più il ruzzo ci ha garantito una nuova linea che verrà realizzata a partire dal 2020 e finirà nel 2022 che permetterà da Villa Vomano di arrivare fino a Casa di Trento dove ci sarà una cisterna con oltre 30 mila litri d'acqua che permetteranno a Giulianova di non rimanere mai più senza acqua nel periodo estivo. Per noi è determinante, sappiamo che per oltre 50 anni, soprattutto nel periodo di agosto abbiamo avuto problematiche e quindi nel nostro mandato andremo a risolvere questa problematica e oltretutto a scadenza semestrale il ruzzo ci andrà a rimborsare una cifra di circa 60 mila euro derivante appunto da quei oltre 750 mila euro. Un ottimo risultato, siamo al lavoro, siamo strafelici di quello che siamo riusciti a fare nei primi dieci giorni praticamente.